Vediamo Zanni che si sta preparando con una massa, non vedo l'ospedante, l'ospedante è Antonio, Antonio ha la prugna in cuoio, Zanni ha il classico di colore grezzerino e il giallo e il verde. Anche qui avrete la possibilità di scattare bellissime foto. Sono strudini di vestiti di pelle, tutti resistono bene le piappe. Sono strudini di vestiti di pelle, tutti resistono bene le piappe. Guardate qui dentro! Guardate qui dentro! Guardate qui dentro! Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.